Il rapporto con i giudici, con chi ti sei trovata meglio? Allora, mi sono trovata meglio con Barbieri, sì, sembrerà strano ma è così. Come mai? È una persona molto delicata. Ok, e te l'aspettavi di uscire? Sì. Sì, perché ho letto tante critiche, persone che invece non se le aspettavano. No, no, io me lo sentivo. Sono stata sempre consapevole che prima o poi sarei andata via. E quel giorno io lo sapevo. Vuoi perché sono un po' più grande, un po' più sensitiva, lo sapevo, me lo sentivo. Ero tranquilla, comunque. E cosa ti ha lasciato questa esperienza? Allora, questa esperienza posso, allora, dico una cosa, sono io che ho lasciato, ho lasciato me stessa, mi sono data, donata, mi sono spogliata lì. Sì. Quindi, questo penso. Mi sono fatta conoscere. Mi sono fatta conoscere, per come sono io, sincera, senza sovrastrutture, senza falsità, senza crearmi un'immagine, senza grilli per la testa, ma dai, ma quali grilli? Quindi, mi auguro che qualcuno si possa ricordare di me. Un bel ricordo. Tutto qui. Anna Maria, possiamo partire dall'abbraccio con Antonino Panna Pacciolo? Un momento un po', no? Strano. Un momento stranissimo. Prima cosa io non me l'aspettavo, perché ho detto, come al solito mi deve sgridare, perché lui sgrida. Quando mi ha chiamato mi ha detto Anna Maria, sai che facciamo, e mi ha abbracciato. Io manco, infatti ho un po' indietreggiato pure, no? Ho detto, oddio, ora mi schiaccio, mi tira qualche scaffuna. Mi è uscita la parola in dialetto, dai. Mi tira qualche schiaffo dietro la spalla, e invece è stato un momento dolcissimo. Mi sono sentita protetta. A proposito di dialetto, di tradizioni, di origini. Tu sei di Lecce, la cucina leccese, la tua cucina leccese è quella della cucina della mamma, di piatti abbondanti, saporiti, insomma... Piccanti, saporiti, abbondanti, non cose sceme. Sei entrata con le sagne incanunate. Sagne incanunate tutta la vita. Polpette, lasagne, spezzatino, carne appignato. Hai vinto anche l'esterna con il polpo? Si fa a Lecce, si fa così? Si fa, sì, il polpo si fa così. C'è qualcosa che è cambiato nella tua cucina ora, oppure rimani integralista leccese? Rimango integralista leccese d'occo. Felice di aver imparato tante cose, è un mio arricchimento, ma la mia cucina, oh, io sono tosta, rimarrà così. Non voglio cambiare, perché devo cambiare? A me non mi va di cambiare, non voglio copiare. Quella è la mia cucina e quello mi piace cucinare. E continuerò a farlo. I tuoi figli che dicono? I miei figli mi amano, i miei figli sono orgogliosi di questa mamma. Che fortuna che hanno avuto. Sì, sì, lo devo proprio dire. Sì, infatti hanno sentito la mia mancanza. A voi, ecco, me l'hanno sentita. Anche perché sono un po' rompiscatola, eh, a casa. Molto. Sono la tipica donna del sud. No? Le donne del sud, cioè, c'è questa mentalità da noi, che quasi sia l'uomo, questi uomini, mamma mia, no, che decide, invece non è vero. Facciamo finta di fare decidere a loro, ma facciamo tutto noi. Noi siamo la mente. Ed è la verità. Una cucina un po' lontana dal petto di faraona. Mamma mia, beh. Mamma mia, quel petto me lo ricorderò per tutta la vita. A parte che a me non piace, sinceramente, questa faraona. Anzi, non l'ho mai mangiata e non la voglio mangiare. Molti passaggi, vabbè, una cosa favolosa che ha fatto Locatelli. Chi può dire nulla. Molto veloce, lui, di una velocità incredibile, infatti stargli dietro non è stato facile. E sono uscita col petto. Eh sì, che sei col petto, proprio che non mi piaceva. Quindi sono uscita per quello. Ma ho sbagliato, eh. Ho sbagliato. Perché la verità, bisogna dirla. Ho sbagliato. Ho però sbagliato i tempi. Vuoi pure che forse ho peccato un po' di presunzione, ho detto tanto carne, queste cipolle, carote, chi è che non le so fare. E invece là, vedi, quando non bisogna essere troppo sicuri nella vita. Ed è così. Ti sentivi un po' più, diciamo, avvantaggiata rispetto a Giada? Diciamo così. Vorrei partire da raccolare. Ma più che altro per una questione di esperienza di età, no? Rispetto a Giada, che è ragazza, quindi io cucino da 30 anni, quindi ho detto, figurati, cosa vuoi che sia per me? E invece non è stato così. Giada è stata più brava, ed è giusto. Ed è giusto. Sono contenta per lei. Ed è... si è visto. Non si può negare. Non è che scomio sono più grande, c'ho più una manualità diversa, devo essere più brava. No. È stata più brava lei. Si merita tutto. E' il più talentuoso tra i tuoi compagni di viaggio? Quello che ti ha sorpreso di più per qualche motivo? Veramente sorpreso? Non mi ha sorpreso proprio nessuno a me. Devo dire la verità. Tutti troppo bravi, molto tecnici, molto preparati, e si è visto, dai piatti si vede, i loro piatti sono dei quadri, i miei non sono dei quadri, ma no, solo il più talentuoso no, sono, meritano, non saprei manco decidere, ecco, sinceramente. Caratterialmente invece c'è qualcuno più spinoso di altri? C'è qualcuno che è molto permaloso, un po' che se la prendono, cioè che non si può parlare più di tanto, cioè per me è inconcepibile innervosirsi, piangere, arrabbiarsi, vendicarsi perché un piatto non l'ha fatto male. C'è un nome. Un nome. Cioè per esempio Antonio è un po' presuntuoso, con tutto che è una bravissima persona, io sto parlando di carattere, sa cucinare benissimo, è un esteta della cucina, chi si mette al suo fianco, cioè si fa sempre un passo indietro, perché merita, insieme a lui pure tanti altri, però chi è presuntuoso, chi un po' se la prende, chi è un po' estratega, io questo l'ho percepito, l'ho notato, diciamo se la sono scaldata e girata tra di loro, io non me ne sono mai importata più di tanto, non certo io mi vado a litigare per un piatto, o sgomitare per un piatto, ma di che stiamo parlando? Ma dai, ma stiamo scherzando, ma non esiste, sono altri problemi nella vita, non il piatto fatto male, io ho bruciato le carote, e chi se ne frega, la giubbina ha bruciate, ma pure a casa mia, metti la verza, la lasci sul fuoco e la bruci, chi se ne importa, la rifai, però là una gara è andata così, ma io sono molto orgogliosa di me, anzi posso dire, sono stata brava, lo voglio dire, mi sento brava, quindi poi, con tutti quei giovani, c'ero io, vabbè pure Vincenzo, diciamo io e Vincenzo più grandi, no? Siamo stati bravi, ti e due, Vincenzo è ancora lì, auguro a tutti di un bellissimo percorso, e che vinca il migliore.